Segnalazione arrivata questa mattina da un cittadino per denunciare lo stato in cui riversano le sponde nel tratto del fiume Metauro nei pressi della centrale Gas Eni, lungo la strada delle camminate. Il cittadino ci ha segnalato nello specifico l'incuria della zona in cui sono presenti in mezzo alla folta vegetazione circostante, lastre di ethernet sparse, bottiglie di plastica abbandonate sul suolo, reti da pesca fino al ritrovamento di pezzi di un mobile sminuzzato nell'erba. Passeggiando lungo il fiume mi sono accorto di questa discarica abusiva riguardante alcune lastre di amianto e mobili abbandonati per poi essere schiacciati dalla macchina che ha effettuato il taglio dell'erba. Inoltre ha evidenziato anche la presenza di tracce di pneumatici lungo le stradine interne che costeggiano il fiume di norma inaccessibili da come ci ha riferito al transito dei mezzi. I cancelli sono sempre aperti e anche qui bisognerebbe valutare la possibilità di installare nuove strutture per rendere inaccessibili veramente queste aree ai camion. Nelle stradine laterali del fiume si vedono benissimo le orme lasciate dai camion, i camioncini che nottotempo effettuano degli scarichi clandestini. Pertanto io faccio un appello agli organi competenti ad effettuare un superluogo per poter ripulire quanto abbandonato da queste persone con pochi scrupoli.